Buongiorno a tutti, a tutti i presenti, giornalisti che ringrazio di essere venuti qui per la nostra conferenza stampa, la conferenza stampa di mezza giornata del sinodo, il tema è la violenza di genere. Salutiamo anche chi ci segue live streaming, in video, su Radio Bequit, rba.it e anche su Radio Voce della Speranza. Vi salutiamo, sappiamo che ci siete vicini e sentiamo anche noi questa vicinanza. Dunque parliamo di violenze di genere, se ne parlerà oggi pomeriggio nel sinodo, uno dei temi, lo scorso sinodo ha spinto molto su questo tema, un tema che purtroppo è un tema che nell'agenda preferiremmo non ci fosse, che non bisognasse parlare di questo, ma è un tema che interessa le chiese, nel particolare qui al sinodo valdese e metodista, le chiese valdesi e metodiste. Ne parliamo con due ospiti, parliamo con Maria Bonafede, pastora, già moderatora della Tavola Valdese, membro del Consiglio della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, e mi fermo qui perché si potrebbe continuare. E ne parliamo anche con Gianna Aurizio, che la qualifica è regista televisiva, ma è qui nel sinodo nella sua capacità di presidente della Federazione delle Donne Evangeliche in Italia. Dunque, inizio subito a dare la parola ai nostri ospiti, alle nostre ospiti, con Maria Bonafede, che ci parla un po' di questo tema e ci dirà qualche cosa di interessante che non tutti conoscono, ecco, di quello che si sta facendo sia a livello della Federazione, 8x1000, ecco, sentiamo un po'. Sì, buongiorno sia a tutte le persone presenti qui, sia a chi ci ascolta per radio. Ma io volevo, ovviamente il tema è noto a tutti e anche nella sua dimensione tragica, volevo parlarvi di un'iniziativa che la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia sta prendendo, ciò che presenterò anche al sinodo oggi, all'attenzione delle nostre chiese, e cioè un'iniziativa ecumenica sul femminicidio. Cioè l'idea è di lanciare, diciamo, di prendere un impegno ecumenico, perché le chiede cristiane possono molto sulla formazione delle coscienze, sulla costruzione anche di una coscienza critica in questo senso, e quindi un'attenzione particolare sia a livello di dichiarazioni comuni dei cristiani, che sono naturalmente hanno un peso maggiore che se ogni chieda fa la sua, ma a livello nazionale avere la possibilità di parlare insieme di questo tema. Abbiamo già raccolto una piena disponibilità della Conferenza Episcopale Italiana dalla presenza in questi giorni di Monsignor Mansueto Bianchi del Consiglio Ecumenismo e Dialogo della CEI, e abbiamo rivolto la domanda, siamo in attesa di risposte dalle chiese ortodosse che vivono in Italia, in modo particolare da tutte, ma naturalmente per questioni di numero, gli ortodossi rumeni sono numerosissimi in Italia, e quindi sarà molto importante riuscire a poter parlare anche insieme a loro, a nome di questo. E naturalmente questo, lo voglio dire perché mi sembra una cosa molto importante, poter denineare un metodo ecumenico, cioè noi siamo tutti e tutte molto impegnati nell'ecumenismo, anche se spesso lamentiamo il fatto che l'ecumenismo si riduce a una intensa collaborazione una settimana all'anno nella Spuc, nella settimana di preghiera per unità dei cristiani, che tutti facciamo con convinzione e con impegno, però poi io credo che ci siano altre cose che possiamo fare insieme come cristiani in Italia, questa mi sembra molto importante, anche per le ricadute che può avere nella pastorale, penso alla pastorale dei fidanzati, penso al dialogo con le persone, con le famiglie, tutto questo, le chiede cristiane hanno una pregnanza e un ascolto raro che può essere molto utile per modificare radicalmente la situazione, sappiamo benissimo che la gran parte della violenza sulle donne avviene nelle famiglie o comunque nell'ambito largo delle famiglie, ahimè, e allora il fatto che le chiede cristiane abbiano un incontro, un ascolto, una particolare possibilità di parlare in questo campo mi sembra fondamentale. Sull'8x1000 voglio dire solo una cosa, da anni stiamo cercando di, la Chiesa Valdese, Unione delle Chiede Metodiste Valdesi cerca di seguire questo tema anche investendo dei denari che ci vengono poi dai cittadini e dalle cittadine e per darvi solo un numero dell'investimento di quest'anno, siamo quasi a 700.000 euro, vi voglio fare solo i tre esempi che cita la relazione della Commissione d'esame al Sinodo, che sono uno sportello, una finestra rosa all'Ospedale Evangelico Internazionale di Genova che si incentra sulla valorizzazione dell'accoglienza e dell'ascolto delle donne vittime di violenza, proprio un servizio che serve anche alla prevenzione. Poi c'è all'Ospedale Villa Betania di Napoli, anch'esso l'Ospedale Evangelico, si è aperto un servizio per le donne immigrate prive di documenti, prive di permessi di soggiorno che possono andare ed essere assistite, ascoltate senza bisogno di altro che della loro presenza, solo presentandosi e così via. Diciamo, ecco, queste sono cose fatte da noi, ma anche sosteniamo progetti di altri, anche non necessariamente evangelici, ma progetti che tendono alla tutela delle donne e al rafforzamento anche della loro coscienza e tendono anche appunto a fare un'informativa anche a livello di donne e uomini in Italia. Però il sostegno anche economico di questa operazione mi sembra importante. Grazie, do la parola a Gianna Urizio. Allora, Federazione delle Donne Evangeliche in Italia. Ecco, innanzitutto come Federazione delle Donne Evangeliche noi siamo proprio liete che le chiese prendono fortemente nelle mani questo tema. La Federazione delle Donne Evangeliche nel 1998 aderì a una proposta del Consiglio Mondiale delle Chiese di Ginevra di avere un decennio per vincere la violenza contro le donne partendo dalla convinzione che la violenza sulle donne non è un fatto soggettivo legato a malattie, a disagio, a stranità o percorsi di pazzia ma è una questione che è trasversale i cedi sociali, le nazioni, è frequente ed avviene anche nelle nostre chiese. Questa cosa qui è stata lanciata in Italia nel 1998 quindi in un'adesione di una proposta in un grande convegno alla Facoltà Valdese di Teologia con centinaia di donne ma anche con una presenza internazionale cioè chiese come la chiesa riformata di Scozia per esempio ma anche come la chiesa evangelica di Germania eccetera avevano preso nelle loro mani questo tema proponendo degli elementi. Quindi noi siamo lieti che in questo momento a livello di ecumenismo venga preso questo tema come campo di lavoro come potrebbe essere anche il tema della fine vita dell'inseminazione artificiale ci sono molti temi che riguardano la vita delle persone umane che andrebbero come dire messe dentro un canestro di un percorso ecumenico quindi benissimo. Volevo anche dire che secondo me questo percorso va fatto alla luce di quello che è una cosa importantissima che noi abbiamo cercato di evidenziare poi magari parlo un attimo di 16 giorni e cioè la Convenzione di Istanbul la Convenzione di Istanbul che è stata proposta agli Stati europei è stata adottata dallo Stato italiano nel giugno del 2013 è diventata questo mese in agosto legge dello Stato lo Stato italiano ha stanziato questo per dare dei dati anche del fenomeno di come come dire ci sia una convergenza di movimenti di soggetti diversi si è stanziato 17 milioni di euro per le regioni proprio per istituire cioè di istituire agli enti locali per finanziare i momenti di accoglienza di ascolto di protezione delle donne che subiscono violenza riconoscendo che questo tema è un tema che si lega perché si parla di genocidio ovvero di femminicidio il termine non so se lo sapete tutti nasce con le donne di Città du Juárez in Messico che venivano uccise casualmente probabilmente per una dimostrazione di forza maschile nelle bande della droga eccetera si riferisce al fatto che le donne vengano uccise in quanto donne non perché cattive o altro ma perché donne quindi femminicidio la violenza sulle donne è violenza di genere infatti anche qui giustamente si parla di violenza di genere ecco perché dico queste cose perché è vero che le donne evangeliche in Italia è dal 98 che lavorano su questi temi quindi hanno come dire elaborato anche una riflessione delle proposte delle cose e qui mi riferisco a un quaderno che poi se magari i giornalisti desiderano posso anche dargli un riferimento PDF eccetera è un quaderno 16 giorni che da 5 anni la federazione fa nell'ultimo anno l'ha proposto proprio alle chiese ed è ha fatto un abbinamento cioè cosa propone propone nei 16 giorni che l'ONU cioè il 25 novembre quando l'ONU ha dichiarato il giorno che ricorda questa violenza sulle donne e proponendo le iniziative a favore e il 10 dicembre che è l'anniversario della dichiarazione dei diritti dell'uomo anche questa diritti dell'uomo è true man human being cioè l'essere umano la federazione delle donne propone questo percorso di 16 giorni in cui abbina una storia di donna uccisa in Italia nei due anni precedenti e la convenzione di Istanbul che tra l'altro cosa molto importante io penso che anche le chiese adotteranno questo metodo chiede agli stati agli enti locali alle istituzioni civili di lavorare in stretto contatto con quello che sono i saperi delle donne e l'esperienza delle donne quindi benissimo io sono molto lieta di questo annuncio che da oggi che verrà presentato oggi in sino di questa proposta ecumenica speriamo che venga fatto fortemente dentro e con come dire utilizzando quella che è l'elaborazione delle donne in proposito giusto per dare un'informazione finale che cos'è la FDEI ho detto la FDEI come se tutti voi la doveste conoscere non è detto la federazione delle donne evangeliche in Italia unisce non è solamente come dire un organo delle donne valdesi o delle donne metodiste dentro la federazione delle donne evangeliche ci sono le donne avventiste l'esercito della salvezza le donne luterane le donne battiste e le donne italiane nella Svizzera italiana evangelica ovviamente per fare un esempio giusto per dire come a volte i temi si possono intrecciare le iniziative pure si parlava di idee di progetti l'esercito della salvezza le donne dell'esercito della salvezza in Italia hanno lanciato questa primavera un progetto rivolto alle comunità sul discorso della tratta come noi ci siamo impegnate a bring back our girls noi troviamo che è stranissimo che anni di furtice di rapine di donne nigeriane per la prostituzione in tutta Europa si è passata sotto silenzione del chiede cioè noi abbiamo avuto difficoltà a strutturare iniziative per per esempio combattere la tratta la tratta di donne per prostituzione che si unisce a un altro elemento molto importante che è quello della tratta degli esseri umani che in questo momento sta diventando più economicamente interessante della droga insieme alle armi quindi sono tutti elementi come dire che il lavoro delle donne la ricerca delle donne i studi delle donne offrono alle chiese io spero proprio che venga accolto e che diventi veramente un momento di metodo di lavoro poi se poi vorrete noi abbiamo anche un notiziario proprio questa storia di questo lavoro delle donne dell'esercito salvezza è dentro l'ultimo nostro notiziario e poi vabbè a disposizione i 16 giorni che facciamo e che faremo anche quest'anno devo dire che non abbiamo ancora deciso come lo svilupperemo ma sarà un lavoro collettivo di donne e anche di uomini rivolto non solo alle donne ma tutte le comunità evangeliche e perché no anche le comunità cattoliche che cominciano a chiedercelo grazie io aprirei il dibattito ecco se ci sono delle domande da parte di giornalisti giornaliste ecco presenti qui in sala è il momento di farle prego presentarsi sempre buongiorno sono Claudio Paravati per la rivista Confronti volevo fare una domanda a Gianna Urizio sulla federazione delle donne se ho capito bene c'è un lavoro molto importante di vigilanza per così dire di richiamare l'attenzione su queste tematiche volevo chiedere in che modo e se sta cambiando il modo di elaborare anche il pensiero all'interno della federazione delle donne e cosa secondo te è necessario fare come proseguire invece alla pastora Bonafede vorrei chiedere in ambito della federazione delle chiese che ha anche un rapporto diretto con lo Stato delle chiese protestanti e secondo lei cosa si può fare da questo punto di vista cioè nello spazio pubblico come proseguire ecco come federazione grazie e raccogliamo magari non vedo ecco dunque diamo la parola nell'ordine di domanda ecco ma il diciamo così che un lavoro di donne in Italia in genere laiche cattoliche cattoliche protestanti o neulla è fatto almeno da 20 anni cioè sono le donne che hanno cominciato a parlare di violenza sulle donne l'elaborazione si è sviluppata pensando che appunto questa violenza non è occasionale non è saltuaria non è legato a anomalie o patologie maschili o femminili eccetera ma è di genere questa è certamente un'evoluzione cosa vuol dire vuol dire che nelle relazioni uomo-donna che ci sono nella nostra società ma in generale nella nostra società c'è una disparità che è come l'acqua quando scendo sale che provoca questo quindi questo come gli mette sempre più a fuoco quali sono i meccanismi culturali e anche di scambio che dovrebbero proprio cambiare nella relazione uomo-donna certamente tutto il movimento delle donne quindi anche le donne evangeliche che non si ritengono fuori dalla società ma parte di una società di donne come le nostre chiese non sono fuori dalle società ma sono parte della società fanno parte di una cultura cioè noi viviamo dentro una cultura patriarcale che dal Parlamento in giù vorrei dire delle cose stanno cambiando però di fatto è come dire crea una disparità di opportunità questa cosa qui è negata da molte cose per esempio noi sappiamo che i numeri per esempio della capacità o dei risultati delle donne nelle scuole per esempio è maggiori degli uomini però questa cosa qui non modifica ancora molto l'assetto per esempio del lavoro o nelle posizioni di lavoro eccetera quindi diciamo così la cosa che noi abbiamo cambiato nell'ultimo 16 giorni a tra l'altro mi piace dire che è accompagnato sempre da un versetto biblico da un momento di meditazione da una preghiera e da una proposta positiva la novità è che noi abbiamo detto noi non dobbiamo più parlare solo alle donne di violenza di genere ma dobbiamo parlare degli uomini cioè sono gli uomini che devono cominciare a porsi il problema della loro relazione ovvero di come hanno come dire di come assieme alle donne le loro madri le loro moglie le loro compagni decidono di vivere la loro umanità ecco quello che noi diciamo fortemente noi siamo uomini e donne nella famiglia nella società e nelle chiese questo è molto importante ma in tutti i contatti pubblici che la federazione ha avuto anche a livello appunto istituzionale questo è un argomento che ribadiamo anche sulla scorta dell'esperienza della federazione delle donne e di tutta l'elaborazione della federazione giovanile voglio dire questo tema è veramente trasversale alle generazioni e al nostro organizzarci all'interno delle chiese ed è qualificante nei rapporti pubblici istituzionali io credo che sia un altro aspetto che sia molto importante come proprio chiese evangeliche parlo anche come sinodo il fatto di riuscire a legare questa riflessione che è cronaca il femminicidio e la strage delle donne cioè centinaia di persone ogni anno che muoiono per non parare delle migliaia invece di donne che vengono comunque soccorse che subiscono violenza e di tutte quelle che non la denunciano c'è un argomento un tema che è proprio cristiano che è quello di scoperchiare una la Bibbia è stata usata molte volte nell'educazione nella formazione delle persone in realtà come può essere usata anche come uno strumento di repressione quindi in qualche modo di non dico di autorizzazione ma insomma nel panorama la riprensione la conduzione della famiglia l'atteggiamento nei confronti delle donne dei figli la Bibbia è un libro antico che non dice naturalmente di fare violenza però è stata usata molto come uno strumento di di un certo tipo di educazione che non è liberante ma è in qualche modo soggiogante allora questo lavoro di lettura profonda della Bibbia di esegesi biblica di racconto di lavoro che è propria delle chiese cristiane crediamo che debba essere fatto anche con questa attenzione particolare a questo tema perché può fare molto bene può fare molto bene avere una lettura e una discussione sui testi che per noi sono di un riferimento essenziale appunto una lettura che ci aiuti a vedere tutti i punti negativi e le contraddizioni che ci aiuti a uscire da questa situazione sapendo che è il libro in cui si si parla dell'amore della vicinanza di Dio della sua accoglienza che deve essere in qualche modo diciamo a cui noi dobbiamo corrispondere con la vita nelle nostre chiese quindi una vita amorevole accogliente capace di smascherare la violenza e di ricostituire delle relazioni sane altre domande prego grazie Diego Meggiolaro Radio Bequita Evangelica il tema della violenza nei confronti delle donne è stato toccato anche ieri nella serata pubblica e nell'intervista che abbiamo realizzato all'assessora al lavoro all'istruzione Gianna Pentenero che ci ricordava che c'è un piano in regione Piemonte nel 2010 che era stato messo a punto per contrastare questo fenomeno che però è stato un po' accantonato e dimenticato nel corso degli anni le chiese valdesi chiedono qualcosa di pratico e di concreto alla politica in questo caso la politica regionale hanno qualcosa di concreto da chiedere oppure no grazie farei rispondere Maria io rispondo solo come residente a Torino da un anno quindi anche io ho ascoltato con molta attenzione questo dato che ci è stato dato ieri sera dall'assessora e quindi naturalmente mi informerò di come si può lavorare anche avere un sostegno pubblico per un lavoro attento preciso e diciamo civile non solo religioso su questo tema per cui mi ha molto interessato però appunto io sono davvero appena trasferita quindi non so ancora molto della regione Piemonte ma quanto basta però le antenne ci sono abbiamo un'altra domanda Federica Turn per riforma mi sembra che le chiese evangeliche abbiano avuto sempre molta attenzione all'educazione scusate su questo tema non sempre è così per esempio lo Stato ha fatto un decreto sul femminicidio e mi piacerebbe avere un vostro commento su questo tema e ora allora devo dire che il decreto il decreto è stato trasformato in legge il 16 ottobre 2013 il decreto è stato del 16 agosto e ha messo in suo quadro tutta la realtà delle donne che lavorano sul tema della violenza se vi posso dire ma penso che l'avrete forse come giornalista anche già colto il decreto era un omnibus come viene chiamato in termine tecnico ed era dentro un decreto sulla sicurezza generale quindi come dire il discorso veniva affrontato il tema della violenza sulle donne come un problema di ordine pubblico e di sicurezza e questa cosa qui è stata non solo ma non prevedeva nessun tipo di finanziamento rispetto a invece come concretamente si può contrastare di fatto il contrasto concreto c'è di accoglienza delle donne che subiscono violenze che desiderano uscirne ovvero vengono consigliate di uscirne prima che vengono morte prima che sia morte perché quando come dire quando una donna è morta è un problema dei servizi funebri non delle lo fanno i centri delle donne e l'hanno fatto volontariamento ovvero sovvenzionati da alcune regioni o province che sono particolarmente sensibili per esempio io cito Roma dato che io vengo da Roma ci sono cinque case di accoglienza nella provincia di Roma che sono finanziate dalla provincia e che accolgono e che non bastano io tra l'altro siccome noi non siamo donne e uomini di chiesa che vivono dentro le chiese ma siamo cittadini e cittadine italiani io faccio parte di un centro antiviolenza specifico come cittadina italiana non come valdese per non vedo più la giornalista che ha fatto la domanda quindi ho perso il filo come cittadina noi siamo state preoccupate perché le province sono in scioglimento non c'erano finanziamenti questo decreto legge era un decreto che non prevedeva nessun tipo di azione concreta che quindi vuol dire finanziaria da parte dello Stato ovvero del governo italiano nei confronti questo tema questa legge questo decreto è stato trasformato in legge il 16 di ottobre votato e sostanzialmente ha recepito alcune delle richieste della realtà delle donne tra cui la rete delle donne dei centri antiviolenza in Italia che hanno chiesto che ci fossero delle azioni positive nel senso di non solamente negative di repressione ma anche positive di finanziamento da qui questi famosi 17 milioni che sono adesso in destinazione nella conferenza Stato-Regioni e in questa la responsabile di questo settore del Stato-Regione ha chiesto di nuovamente alla consulenza dei centri antiviolenza per capire quali sono i criteri al di là eccetera vi faccio un esempio ma usciamo dal tema forse di questa conferenza stampa la regione Sicilia ha dichiarato 62 centri antiviolenza alla faccia cioè ha messo dentro tutti i centri che si occupano in qualche modo di donne quindi assolutamente però non è che una regione o Stato-Regioni può dire alla regione Sicilia ma guarda che ti stai sbagliando forse ce ne sono tre centri antiviolenza davvero questo vuol dire che saltando su un tema in cui non c'è una cultura e non c'è una preparazione politica di fatto nonostante gli accordi di Istanbul nonostante che lo Stato abbia recepito la convenzione di Istanbul c'è un problema ma di stabilire quali sono le modalità per poter davvero e senza fare danni cercare di superare questa cosa quindi c'è un piano sicuramente di prevenzione di prevenzione di confonti di giovani e quindi di educazione c'è sicuramente un piano di accoglienza delle donne e c'è sicuramente un piano di ricostituzione dell'umanità sia del maschile che del femminile cioè sia degli uomini che delle donne cioè il tema va preso all'alba e va seguito fino al tramonto se vogliamo usare questo termine cioè è un tema complesso che non si può risolvere un anno che non è un problema di sicurezza io lo voglio molto ribadire non è che incarcerando dieci uomini si risolve il problema si tratta di anche innestare delle risorse nelle donne perché noi come centro antiviolenza per esempio siamo certe che le donne che per dieci vent'anni hanno subito violenza e ne vogliono uscire sono debilitate sono sfiduciate qui noi parliamo di empowerment di donne ma c'è anche un percorso maschile che per esempio un'altra assemblea di chiese come quella battista ha riconosciuto come importante cioè hanno detto sono anche gli uomini che devono fare un percorso e questo per noi è un invito cioè noi anche come federazione delle donne evangeli che vogliamo dire vogliamo come chiese affrontare veramente il tema non sono le donne che vanno assistite sono le donne che vanno ascoltato e gli uomini devono fare un percorso di cambiamento abbiamo magari un'ultima domanda ah sì no che ci è arrivato un messaggio sul sul lato abbiamo parlato all'atto dello scorso anno sì l'ho detto l'ho detto in introduzione sì ecco no non vedo altre domande per cui farei io una domanda per chiudere questo molto veloce no spesso si pensa che la violenza di genere sia una cosa settoriale che interessa solo le donne o gli uomini che sono coinvolti in questo siamo molto preoccupati spero che ci sia una preoccupazione per l'aumentare della violenza nella nostra società almeno questa è la percezione che abbiamo violenza negli stadi che arriva a livelli preoccupanti pensiamo a queste storie di questi di questi ragazzi che vanno che vanno in Siria dalle nostre periferie per per tagliare la testa alla gente ecco situazioni di violenza molto molto radicali ecco quanto la riflessione sulla violenza di genere ci aiuta soprattutto da parte delle chiese ecco si è parlato di catechesi di educazione ecco quanto può aiutare ad affrontare questo questo che è un problema sempre più più importante nella nostra società Maria ma lo dicevo anche prima cioè tanto tanto anche se non si può quantificare perché è come l'educazione dei figli cioè che ne sai però si può seminare moltissimo perché appunto questa cosa è spaventosa noi abbiamo fatto un decennio sulla violenza delle donne un decennio contro la violenza in genere le chiede le cumene si interpella su questo però quello che accade è mostruoso è mostruoso che non si vada allo stadio per vedere una partita ma per ammazzare qualcuno che si vada in giro per il mondo per poter sfogare è una cosa per cui io credo che tutte le ma non solo le chiese ma le chiese anche tanto e noi siamo una chiesa oggi riunita qui nel sinodo ma tutti coloro che si occupano di formazione di educazione di relazione con le persone possono e devono credo mettere un'attenzione speciale al a ricostruire delle relazioni improntate a cose diverse all'ascolto all'accogliersi all'intelligenza alla parola perché la violenza è più forte laddove non ci sono gli strumenti anche per parlare per poter dire le cose allora tutto questo credo che ci interpelli moltissimo e ci dia una prospettiva di lavoro sulla quale possiamo stare tranquilli per molti anni quando si parla di violenza io ogni tanto ho voglia di rovesciare il campo proseguendo quel discorso che diceva Maria questi ragazzi hanno subito violenza è la nostra società che è violenta l'educazione ai bambini è violenta la mancanza di lavoro è violenza la mancanza di prospettiva è violenza la mancanza di solidità è violenza noi dovremmo cercare non di dire ma perché questi stupidi vanno lì a ammazzare ma dire il contrario cosa abbiamo fatto noi per indurli a questo quali prospettive abbiamo offerto cioè quando noi diciamo e parliamo di Lampedusa noi dovremmo anche parlare di quali prospettive offriamo a questi ragazzi nella scuola voi sapete cosa succede ai bambini musulmani nelle nostre scuole questa è violenza e se la sono bevuta per otto anni di scuola se sono andati otto anni a scuola ma se ne vanno quindici tredici è lo stesso cioè io che faccio un lavoro di prevenzione alla violenza nelle scuole della provincia di Roma una delle cose principali che devo lavorare è contro il razzismo cioè la violenza di Banlieue di Parigi la violenza di Kensington o delle tre zone come si chiama quell'altro quartiere di Londra sono legate a un'esclusione sociale capillare quotidiana profonda umiliare che questi ragazzi hanno avuto allora o noi affrontiamo come noi affrontiamo l'immigrazione e poi capiremo perché dei ragazzi musulmani vanno a uccidere in Siria oppure non lo capiremo mai e penseremo come la violenza di genere che sono stupidi loro o che hanno bevuto o che sono drogati la nostra scuola ma posso dirvelo dobbiamo camminare sulle braccia ardenti e questi ragazzi i genitori non li esonano dalla religione ieri parlavamo di IRC qui al Sinodo non li esonano dalla religione perché sarebbe un elemento in più di esclusione allora affrontiamo questo tema quando parliamo dell'IRC diciamo che le nostre scuole non sempre riescono a essere inclusive le nostre scuole pochi non solo ma questa cosa qui è lasciata alla buona volontà alla visione politica alla buona intenzione degli insegnanti non è una politica strutturata del MIUR cioè mancano i programmi nel discorso di genere la violenza cioè noi interveniamo nelle scuole tra l'altro anche lì se vi interesso ho dei librettini per vedere come cerchiamo di intervenire sulla violenza che i ragazzi comunque esprimono bullismo violenza furti queste cose qua prostituzione con telefonini queste cose qui avvengono perché non c'è sponda perché non c'è un'ipotesi concreta nei libri di testo di genere perché nell'elenche dei libri degli autori di letteratura parlavo del genere di letteratura da conoscere per fare l'esame di diventare professore si dimentino di Grazia Deleda che premiano Nobel per la letteratura e ci mettono dentro d'annunzio perché non c'è una visione di genere nella cultura non c'è una visione di inclusione per l'immigrazione c'è chi ha fatto una pedagogia dell'immigrazione per le scuole elementari scusate l'emozione no grazie di questa condivisione abbiamo parlato di violenza di genere abbiamo parlato di come contrastarla di quello che le chiese valdese metodiste in particolare le chiese evangeliche fanno tentano di fare per questo contrasto e abbiamo parlato con Maria Bonafede che ringraziamo anche Gianna Aurizio che ringraziamo ringraziamo tutti gli ascoltatori li salutiamo in particolare quelli di Radio Bequit e di Radio Voce della Speranza che ci seguono con passione arrivederci grazie a tutti Grazie per la visione!